Non è una protesta, è un atto di sopravvivenza. Così il ristoratore pesarese Umberto Carriera, protagonista in questi mesi di ripetute violazioni alle restrizioni da DPCM e di altrettante proteste pubbliche, annuncia l'iniziativa Hashtag Io apro 1501, una sigla che sottintende come nella serata di venerdì 15 gennaio Carriera aprirà i suoi ristoranti di Pesaro e Fano a cena dopo le 18 e fino alle 22 contravvenendo alle limitazioni in vigore da DPCM. Secondo Carriera sono circa 60.000 le adesioni in tutta Italia a questa manifestazione. Un concetto che Carriera ha anche ribadito in diretta TV nazionale ieri sera su Rete4 nel programma di Mario Giordano fuori dal coro spalleggiato anche dal leader della Lega Matteo Salvini. Dal 15 gennaio che non sarà un Open Day, non sarà un Io apro, ma sarà da oggi Io apro, tiro su la mia serranda perché abbiamo assoluta necessità di lavorare. Siamo sull'Astrico, ma non soltanto la mia categoria di bar e ristoratori, ma tantissime categorie in Italia. Quindi non siete solo ristoratori, ai 50.000 non ci sono solo ristoratori, ci sono tutte categorie, varie categorie. Sì, su tutte le categorie che apriranno nell'assoluto rispetto dei protocolli, anzi abbiamo emanato un DPCM autonomo, un DPCM autonomo con ulteriori restrizioni per dimostrare al Governo che siamo assolutamente in grado di lavorare in sicurezza. DPCM, cioè vi date delle regole molto precise, vi date delle regole molto precise, ma dite andiamo avanti. E non è un giorno solo, ma continuerete a rimanere aperti. Proprio Salvini si è pubblicamente schierato con l'atto di disobbedienza civile di carriera che ha lanciato il guanto di sfida all'esecutivo. Sdegno da parte del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che attraverso i suoi canali social lo ha definito un atto gravissimo e irrispettoso, sottolineando come il fatto che un ex ministro dell'interno appoggia apertamente azioni illegali è di per sé molto grave, che poi lo faccia in un momento come questo in piena pandemia e irrispettoso nei confronti di chi soffre e di tutti gli altri ristoratori in difficoltà che rispettano le leggi.